la coppia del momento ciao Pinto di Christian De Sica ciao Pinto noi parliamo andiamo a a Marettimo a mi, andiamo a mi a Milano a Miami mi, si scrive mi ami ma si dice Miami oh che bravo ma che bravo mi ha portato la valigia ma che questa valigia è messo nel SSR guarda ti faccio vedere gli oggetti di prima necessità sì, prima necessità oh ti faccio vedere che cosa porto io perché sai che cosa porto io sai che cosa c'è a Miami a parte l'America, la città puoi aprire la tua valigia no ma sai cosa c'è te lo dico cosa c'è la gnocca eh ve lo dico la dico, lo dico cosa dici adesso ti faccio vedere guarda guarda se non è vero guarda guarda eccolo eeeh super benvenute a questo portate a Miami questo portate a Miami non si sa mai a Miami a Miami è così vabbè 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 fate bene what is your name please what is your name cacciuscia 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 oh cacciuscia yes yes fai qualche cosa per noi eccole adesso la musica vi accompagna aveva ragione aveva ragione ottimo regalo ci voleva vai vabbè è bello fate fare queste cose adesso e beh no la mattina e la sera una volta prima di coricarsi prima di coricarsi e fa bene per la cervicale molto bene per la cervicale una mano santa bene devo dare un bacino bravo 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 una rosa io devo dirti bravo di voi spazzate siccome voi avete io devo dirti la verità che c'è dentro questa valigia ci avrei messo i pu per tutti e quattro ci stavo era un problema però ho pensato anche a voi venite 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 io devo pensare anche ai miei amici massimo boldi e christian de sica che vuoi fare sono primi negli incassi anche voi dovete fare una buona vacanza allora dove si doveva andare e mi manda a Miami dove mi manda ma tu mi dico non va non posso mi dico ma hai parlato con la madre con la moira con la moira la regina di cicco si ho capito va bene prego prego allora ci vediamo a Miami al cinema possono venire le due che ci accompagnano vi seguono venite anche voi grazie c'è posto per tutti è meglio venite anche voi ci vediamo a Miami ciao buon viaggio buon viaggio arrivederci tante belle case bene bene andate andate per adesso arrivederci tante belle case bene bene andate andate via andate dite yeah now andate